Anche una visita organizzata con tanto di guida specializzata per far conoscere la storia di un minuscolo borgo che nel presepe ha trovato uno speciale motivo di speranza, la storia di Vivaio, sparuto gruppo di case immerse nei castagni poco al di sopra del paese delle piastre lungo la via modenese, borgo che accoglie visitatori e sono ogni anno migliaia con lo spettacolare presepe meccanizzato per proseguire con i tanti presepi allestiti in ogni angolo del paesino. Questo presepe è così particolare? Come è nato? È nato nel 92 dall'iniziativa delle donne di qui di Vivaio che volevano fare il concorso delle piastre e hanno fatto personaggi incompensato e un po' dipinti tagliati da noi con il seghetto alternativo. Da allora tutti gli anni viene allestito questo presepe? Ci sono tante persone a visitarlo? Questo presepe viene allestito dal 92 tutti gli anni e tutti gli anni cresce perché ci si aggiunge qualche cosa, un movimento, una casa, qualche personaggio e vengono dalle 3 alle 4 mila persone tutti gli anni a visitarlo. Da dove? Da Pistoia principalmente ma ora hanno cominciato a venire da Bologna, da Firenze e a volte sono venuti anche dall'estero. Il presepe è un po' diventato anche una regione di vita per il paese? Sì, sì, è una regione di vita, sì perché con le offerte di chi viene a visitarlo si ristruttura il paese, si rifanno le strade, si rifanno i lavori delle staccionate, si può mantenere il paese un pochino meglio. È anche una soddisfazione? È una grande soddisfazione. Poi la gente veniva e vedeva questo presepe, poi faceva il giro della borgata cercando qualcosa da mangiare o qualcos'altro e allora abbiamo cominciato a fare diversi presepi a tutti gli angoli del borgo, in tutte le finestre, in tutti i garage e quindi è cresciuto ancora di più. Non è solo questo qui grande. In questo spazio cosa avete? In questo spazio abbiamo una finestra sul mondo, ogni finestra che viene aperta nelle case rappresentate un po' stilizzate, c'è un presepe che viene da una parte del mondo, da un paese diverso dall'Italia. E tramite i presepi avete stabilito anche tanti contatti? Sì, con molte persone, per esempio che ci portano le palline da mettere all'albero della loro città o i presepini che rappresentano il capoluogo di regione dell'Italia, di loro appartenenza. Sono tutte queste cose che ci hanno fatto avvicinare altre persone, ci aiutano anche a fare nel mondo, ce li portano sia dall'estero, sia che le hanno magari in casa o che. Sono venuto casualmente due o tre anni fa qua su e sono rimasto stupito. Sono veramente bravi in questo villaggio, anzi invito le persone a venire a vederlo perché sono dei capolavori. Veramente c'è dell'amore, dell'anima in questi piccoli presepi.